Era molto forte Un modello 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 Sì, era molto difficile a Napoli avere delle fidanzate. Quando una ragazza napoletana usciva era sempre accompagnata da un fratello, da un genitore, sempre. Però grazie a Dio c'era la guerra e quando arrivavano gli aerei per bombardare Napoli, noi tutti scappavamo e avevamo un posto, una specie di piccola montagna a Napoli sotto la quale stavamo sicuri. E io e Carlo scappavamo sempre lì e speravamo sempre che ci fossero i bombardamenti, perché era l'unico modo per incontrare delle ragazze che a noi interessavano. Ha funzionato? Sì, sì.